...brucciare un guadagno, si un veterinario brucia uno fa, nella cerimonia pone brucia per morte, nel preghiera quotidiana può anche bruciare, dare ai dei, al dio, al buddha, no dio non c'è, al buddha. Qui sono come i voti per i cristiani, quelle cose che abbiamo visto prima vengono bruciate, nella cerimonia. Un pezzo.